Molti pazienti mi scelgono perché eseguo personalmente il trapianto. Il trapianto è un intervento chirurgico a tutti gli effetti, quindi è una chirurgia come tante altre ed è per questo che deve esclusivamente essere eseguita da un medico chirurgo. Non è possibile che questa tecnica venga eseguita da un personale non medico. Io eseguo praticamente tutte le fasi del trapianto, quindi le fasi soprattutto di mia competenza più importanti, quindi la fase dell'incisione, del punching, dell'estrazione e dell'incisione per eseguire i siti riceventi. La parte del placing eseguita con gli implanters viene eseguita dal mio staff specializzato in questo tipo di tecnica e procedura.